Oggi abbiamo presentato un progetto che riguarda la piattaforma DeepServe che abbiamo adottato all'interno della nostra azienda, i QT Consulting SPA, proprio per cercare di mettere insieme tutte quelle informazioni che prima venivano troppo disgregate all'interno di vari moduli e di vari altri servizi che non si parlavano tra loro. Ha aumentato molto la produttività, anche la ricerca e la gestione di quelle che sono le informazioni e ci ha dato la possibilità di migliorare i KPI, tutti i fattori di controllo, di verifica, di business intelligence oltre che semplificare la funzione del dato verso i nostri project manager che si occupano quotidianamente di quello che è la parte di progettazione e di direzione lavori.